se allora mi sto preparando la mia poke buongiorno benvenuto in questo nuovo vlog che inizia così dal pranzo in realtà a colazione ho mangiato solo uno yogurt con dei biscottini quasi è fulminata praticamente la luce qui sopra quindi praticamente non si vede tantissimo comunque ho tagliuzzato il tonno scusate però la potete fare anche col salmone eccolo qua è crudo però adesso lo scotterò leggermente qua c'è il riso adesso vi faccio vedere viene buonissimo è un piatto super leggero e fresco che vi aiuta a stare in forma soprattutto perché il tonno è ancora più magro del salmone però lo faccio spesso anche col salmone è buonissimo comunque sono dei grassi buoni quelli del salmone voilà ecco la mia super bowl guardate quanto è bella col tonno scottato ci ho messo erba cipollina e sesamo poi il riso basmati ho messo le carote cioè le carote volevo mettere carote ma non le avevo e ho messo le zucchine crude a julienne che a me piacciono tantissimo così potete mettere qualsiasi tipo di verdura sia a cotta che è cruda ed è buonissimo ecco ho messo un po' di ginger che in questo momento non mi viene la parola in italiano comunque quello che danno anche al ristorante giapponese ho comprato questo barattolino e qua ho fatto un condimento con salsa di soia, limone, olio e appunto questo ginger scrivetemelo nei commenti che mi sfugge proprio pre buonissimo il tonno così provate amore saluto a tutti ciao seguitelo su instagram ragazze comunque siamo al bar di Dario perché siamo venuti per gli appuntamenti di lavoro qui a Napoli e io guardate un po' oggi vi porto una giornata come di facere proprio quello che faccio vi porto le prodotte le cosine di fettoria infatti vi porto da sotè al mango che è buonissimo fa parte della linea slim troppo buono, fresco e aiuta anche a restare in forma perché ha pochissime calorie io quando siamo al bar ho chiesto che prendermi su tutte le cose ne porto questo buonissimo ragazze vi giuro troppo troppo buono tra l'altro avete la mia promo su sito fettoria avete tutto tutto scontato col mio codice cardita40 avete tutto scontato al 40% perché ci sono i saldi su sito fettoria e anche un regalo tra i regali c'è anche la bottle che quindi l'avete gratis quindi dovete fare assolutamente scorta perché io con questi prodotti io mi trovo benissimo e mi hanno aiutato un sacco a sgonfiarmi e a stare in forma comunque noi adesso andiamo a fare un giletto qua a Napoli perché Dario voleva anche fare un po' di shopping io ho già dato a Roma e ho fatto un sacco di shopping infatti vi devo farvi dire le cose che ho comprato non so bene se ve lo voglio farvi dire in questo video o fare un video a parte è stata anche da Chanel auguro e niente Daniel è a casa con mamma non l'abbiamo passato perché fa tantissimo caldo però dopo ve lo faccio rivedere vuoi dire amore girati questo è il tesero che sta facendo facendo un po' di shopping dopo vari appuntamenti di lavoro e Dario sta scegliendo alcune magliettine questa anche è bella vuoi dire amore? bella ok però col dorato secondo me è più bella guardate che bella la nostra città ma duro noi adoriamo questa zona noi veniamo sempre qua ditemi con me dalle vostre parti come mascherine eccetera che qui praticamente nessuno ce l'ha più pochissimo sono tutto nei luoghi all'aperto quindi speriamo, incrociamo le dita e speriamo bene che tutto vada bene soprattutto nei luoghi affollati anche se siete all'aperto conviene metterla perché comunque non siamo ancora liberi dal rischio comunque è bellissima questa zona è via Chiaia è troppo bella noi veniamo sempre qua via De Mille e via Chiaia a fare shopping vero amore? mio amore ha fatto un sacco di shopping stavolta mi hai battuto a Roma ti ho battuto io stavolta mi hai battuto tu e niente adesso ci possiamo un po' torniamo dal nostro cucciolo che è con la nonna che si sta divertendo a casa eccoci qui siamo bellissimi a passeggio questa è la mia mascherina leopardata ragazzi ma anche voi quando indossate la mascherina io a volte penso a sta cosa dico ma no ma io sono troppo bella non mi posso coprire cioè la gente mi deve vedere se io mi metto la mascherina amore nessuno mi vede cioè è troppo bella per portare la mascherina scherzo ovviamente però guardate qua cioè via come mettere ovviamente scherzo perché chi non mi conoscesse sono molto molto ironica però lo penso davvero ragazzi nel camerino devo provare queste cose è molto carino questo vediamo un po' questo mi piace un sacco spero che mi nutri che meraviglia il nostro paese guardate la cosa bella dell'estate secondo me è anche godersi la città guardate che bello noi poi qua a Napoli abbiamo dei panorami qui siamo a Mergelina ragazzi è qui nell'orario tipo del tramonto è bellissimo guardate sta tramontando il sole no vabbè una cartolina l'adoro vero amore bellissimo adesso ci riposiamo vero amore saluta ciao ragazzi seguitemi su Instagram ancora vi prego andatelo a seguire su Instagram tu che cosa fai che ti devono seguire ci faccio delle cose belle che ho comprato ah ok i tuoi acquisti giusto vai seguitelo per vedere sono divertenti le storie di Dario confermo grazie ora qui con questo bel panorama faccio la mia merendina mi sono portata il passion fruit che è un tè che vi straconsiglio in realtà mi sono portata i due dietro perché sto alternando questi due lo strawberry vanilla che è buonissimo sia sia di fragola che di vaniglia è un'azione molto potente sulla digestione mi aiuta un sacco a sgonfiarvi e questo invece è passion fruit anche buonissimo è un gusto molto esotico fa parte della linea slim io combino sempre la linea detox alla linea slim me lo sono preparato adesso vedete la borsetta sempre di fitvia eccolo guardate quanto è bello viva fitvia bevete tutti fitvia è bellissimo questo qua guardate che colore ha cioè è troppo bello e poi sa di vaniglia e fragola questo qua ho fatto mi giuro che è buonissimo lo dovete provare non potete capire quanto è buono ma guardate che bella che sono al tramonto comunque è buonissimo questo lo dovete provare a me aiutano tantissimo questi prodotti fitvia comunque a sgonfia a sgonfiarmi a eliminare i liquidi sono super super drenanti quindi io li bevo ogni giorno voi fate scorta perché ci sono i saldi adesso c'è la promo del 40% di sconto più un regalo e tra i regali c'è questa battle che è bellissima questa qua voi non la pagate quindi se ordinate adesso con il mio codice che ve lo scrivo qua voi carlita 40 praticamente avete il 40% di sconto più un regalo gratis su tutto il sito spesa minima 59 euro quindi momento buono per fare scorta e tra i regali che potete scegliere c'è la battle quindi l'avete gratis amore vuoi un po' lui me li ruba sempre questo è super dissetante e la cosa buona vi ho detto è questo mix di vaniglia e fragola strawberry vanilla veramente credetemi super super buono con questo panorama adesso torniamo a casa la nostra piccola andiamo giù andiamo giù andiamo giù la faccio prendere un po' meno senza rompere che bracciale è bello tutto è da tutto è da Daniel Daniel tutto è da è bello non è bello sono finalmente tornata a casa mi sono appena fatta una doccia ho questi capellini che proprio non so quando fa caldo ma no è tutto comunque sono nuda voglio far vedere che mi sto applicando tutte le mie cosine anticellulite antismagliature e vi volevo dire che su caritashop.com sono iniziati i saldi quindi so che è una cosa che aspettate sempre tutto l'anno i saldi estivi sono quelli più grandi quindi abbiamo messo questa super promo che trovate direttamente il banner nel sito col codice sconto è tutto tutto scontato la promo dura pochissimo pochi giorni quindi approfittate in questo periodo per fare scorta di tutto anche perché prima delle vacanze poi sapete a un certo punto le spedizioni si interrompono io comunque vi avviserò e perché le spedizioni non lavorano più riprendono a settembre quindi adesso è il momento proprio perciò adesso abbiamo messo i saldi per fare scorta di tutto così voi vi rifornite tutti i prodotti che vi servono per l'estate anche per dopo l'estate anche perché anche le aziende vanno tutte in ferie quindi anche se un prodotto finisce non possiamo rifornirlo quindi voi fate scorta di tutto approfittate che c'è la promo fare scorta di tutto risparmiate tantissimo e avete il 20% di sconto su tutto il sito senza spesa minima e superati 49,90 avete anche le spese gratuite superati 49,90 avete anche un omaggio gratis un prodotto gratis nel pacco quindi una super promo codice e saldi estate 20 comunque trovate tutto sul sito www.caritashop.com adesso vi faccio vedere sotto mi sono fatta questo super scrub che è buonissimo ve lo straconsiglio questi qua li ho usato un sacco ai saldi del mal morto questo di apiare è un buono buono che vi rimuove tutte le cellule morte poi sto continuando a utilizzare quest'olio contro le smagliature che ho utilizzato durante tutta la gravidanza adoro veramente non ho avuto una smagliatura quindi ve lo straconsiglio è super rassodante si può utilizzare su cosce, glutei, addome, seno se siete incinte che non è buonissimo poi dopo di che applico questa crema anticellulite che è veramente un mio must assoluto io la stra amo e me la applico dappertutto in quantità abbondante gambe, cosce, glutei dappertutto ok e poi faccio sempre un bel massaggio c'è questa che invece la metto proprio prima di andare a dormire mi proprio mi dà una sensazione di fresco questo fa effetto proprio freddo è un gel rassodante tonificante per gambe snelle favoloso comunque vi metto tutti i link nei box informazione e li avete tutti scontati al 20% adesso con la promo questa qua invece me la metto sul seno è buonissima questa è proprio una crema per il seno rassodante vedete volumizzante buona 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 anche questa qua ve la stra consiglio questa è un po' la mia routine ok la cosa che vi stra consiglio ragazzi da approfittare adesso questo che c'è la promo sempre contro la cellulite rassodante questi in estate li dovete per forza fare perché vi modellano i fanghi anti cellulite questi sono una bomba perché hanno un effetto osmotico quindi super drenante vi eliminano proprio liquidi e vi modellano questi poi un bel barattolone vi dura per un sacco di applicazioni e anche di questo vi metto il link le box informazione e i drenaggi io faccio sempre fanghi e drenaggi tre volte a settimana e mi trovo benissimo perché vi allontanano un sacco la cellulite cellulite, ritenzione, buchetti buccia d'arancia anche questi bendaggi sono favolosi sono tutti naturali bio e sono super efficaci anche questi li avete scontati al 20% col codice saldi estate 20 saldi estate 20 ok quindi per pochi giorni quindi mi raccomando fate scorta di tutto questi qua sono fenomenali anche questi ma tutto vabbè poi comunque il codice è valido su tutto il sito ho fatto vedere queste cose ma è tutto ottimo lo sapete che abbiamo qui che abbiamo qui il mio amore vi presento ufficialmente mio figlio amore no vabbè lui poi io ti voglio mostrare e tu non ti puoi mostrare no vabbè che adesso perché sei sei tutto sudato devi fare il bagnetto è vero sei col podino così per casa stai vestito ti puoi alzare adesso ti dai comunque ragazze il motivo per cui non ve lo mostravo è perché veramente la gente è cattiva ma lui è bellissimo cos'è qui mamma aspetta è una cosina qua ecco ecco ok è una cosina qua aspetta è una cosina mamma e mamma ti vuole pulire mamma mia scusa mamma vabbè saluta a tutti non lui vuole tutto lui vuole tutto tieni mamma ti dà questo tieni la bottiglia la bottiglia la bottiglia adesso sta scocciato perché vuole fare la tazza vuole fare vuole fare il bagnetto il bagnetto il bagnetto il bagnetto comunque vi dicevo la gente è cattiva vero amore lui è bellissimo anche quando si lamentano e fa un saluto quando si può ah si può fare così facciamo così a selfie a te piace a selfie chi è questo bimbo chi è ciao bimbo daniel ciao chi è sei tu siamo daniel e mamma ciao ciao a tutti vero è vero e niente quindi questo è il motivo ragazze aspettate che lo prendo ragazze questo patatino ha fatto la cacca quindi tra poco vi devo lasciare il papà è andato in palestra e appena torna faremo la pappa vuoi salutare tutti vuoi salutare tutti comunque ragazze brevemente il motivo per cui non lo mostravo è semplicemente che ci sono tante cattive persone che dice guardi mamma e per me youtube vabbè sta lui tipo così che guarda e per me youtube non è un lavoro davvero una passione nel senso che come puoi parlare anche tu nel senso che io comunque non ho bisogno di youtube per monetizzare perché comunque ormai lo sapete comunque non sono più una youtuber ma sono imprenditrice quindi guadagno con le collaborazioni perché sono un influencer con il mio shop online quindi praticamente avessi solo youtube ma non è quello perché molte persone hanno detto ah quello vuoi mostrare per far soldi no ragazzi non è così perché a me cioè i video che faccio su youtube sono semplicemente per restare in contatto con voi ma non è la mia fonte di guadagno principale assolutamente posso smettere domani di fare i video e lo faccio perché mi appassiona mi piace parlare con voi ecco tutto qua però voglio tutelare lui quindi ogni tanto ve lo farò vedere ve lo mostrerò per il semplice fatto di mostrarvelo e perché voglio creare in realtà anche dei ricordi questa cosa l'ho capita da quando ho fatto il battesimo che io voglio che lui magari quando si fa un po' più grande si guarda nei video diceva quella sono io vero mamma e voglio qualcosa che resti oltre alle foto tutto quello che facciamo qualcosa che resti e sicuramente su youtube resta quindi ecco questo è il motivo il mio cambiamento di rotta adesso vi saluto perché lo devo andare a cambiare come è cambiata Carlita nel tempo sicuramente è cambiata la mia vita da mamma altre volte sarei stata a vloggare un'infinità di tempo e invece ora e invece ora c'è questo patato di mamma bellissimo tu vuoi prendere tutto eh sì sì la vuoi prendere la fotocamera aiuto aiuto vogliamo andare a cambiare che puzzi no a lui piace un sacco questa maglia perché ha tutte le faccine vero mamma lui le vuole prendere bravo e niente vi ho regalato sta chicca ne aspetto sicuramente tanti like e tanti bei commenti madonna da solo bravo mamma per avervi mostrato daniele se vi fa piacere questa cosa ovviamente non accetto e non tolero nessun tipo di messaggio neanche lontanamente negativo blocco cancello elimino tutti è ovvio è ovvio sei così bello per questo amore ciao ciao ragazzi vi saluto un bacio c'ho tanto da fare ora e qua c'è anche pupi siamo tutti qui ciao 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 a tutti ciao saluto a tutti i bimbi è vero è vero ciao ha mangiato tutto il pietone di pappa è vero la mamma l'ha cambiato l'ha lavato lui sta spalmando tutto con queste manine è vero e come fanno le faccine sul pigiama di mamma ciao 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 noi siamo le faccine ciao ciao noi siamo le faccine come fanno le faccine ciao ciao noi siamo le faccine ciao 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 quanto sei bello ciao ciao beviamo facciamo vedere come beviamo com'è bravo a bere questo bimbo è bravissimo beve come i grandi con queste belle manine adesso dobbiamo aprire tutto ciao amici